Questa è la sostanza Alè, ma sai qual è? La differenza della sostanza che dici tu è la scenetta che dicevi ai nostri, no? Sì Che noi bene o male è un percorso che fa Siete leggeri? Sì Siete leggeri? No No È che il nostro, brutto o bello che sia è farina del nostro sacco di quello che fa Michele il tuo merito è lo 0% Ma lo dici tu? E lo dico io, sì Guarda, allora prima di tutto prima di tutto lui fa delle coreografie mie e quindi non possiamo dire la stessa cosa di te Ma non è importante chi fa la coreografia Ma a parte questo io non prendo i meriti della bravura di Michele io dico che Michele è bravo, è diverso E non è merito tuo Quindi non dire cavolate Era già bravo Io non prendo i meriti È venuto che era già così Io godo del fatto di avere un bravissimo ballerino Tu hai fatto un 0% Quando voi non ce l'avete Ma non hai un bravissimo ballerino perché non è un ballerino tuo Se ti rode Se ti rode Non è un problema mio Vedo che a te ti rode Quando io dico sostanza È perché è verità Caro mio Ma non si metti in dubbio Ma non è merito tuo Era già così Ma io non mi sono mai presa i meriti Era già così